Ciao ragazzi, oggi rispondiamo qualche domanda per voi. Inizio io. Qual è stato l'avversario che ti ha messo più in difficoltà in carriera? Sidor. A te? Nessuno. E Ibrahimovic, l'ho detto pure in passato. Ora tocca a me. Questa è una domanda perfetta. Come descriveresti il tuo stile nel vestirti? Malissimo. Come ho sempre detto, non mi interessa il stile come mi vesto, mi interessa il stile dentro e in campo, di stare buono fuori, è un'altra cosa. Era perfetta per te. Dai, da te non ti chiedo perché ti dai più importanza al stile. Che è il tuo miglior amico nella Roma? Eccolo qua. Allora tu? Diciamo a te, dai. C'ho un buon rapporto. Ma io ho un buon rapporto con tutti sinceramente, però... Siamo un buon gruppo. A te ti sento sempre, mi chiami cento volte al giorno. Qual è il posto più bello in cui sei andato in vacanza? Naxos. Sapevo. Il mio isolato. Lo conosce nessuno, però... No, no, no. Non c'è migliore posto, ve lo dico ragazzi, potete venire per vacanze. Qual è il tuo piatto preferito della cucina romana? Bugatini alla matriciana. Tu mangi solo Grecove? Eh, certo. Qual è stato il regalo di Natale più bello che hai ricevuto quando eri bambino? Di andare a vedere il mio giro mentre si allenava vecchi tempi, quanto giocava. Questo era il regalo più bello? Sì, che mi ha fatto mio padre. Che regalo? Buonissimo. Chi vincerebbe tra me e tu in una gara di corsa? Da. Rispondi tu. Una gara di corsa fin con io. Normale. Una gara di qualità. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto? Contro Barcelona. Abbiamo passato il turno, sì. Per finta? No, finta no, mai. Io non piango. Piango una volta, dieci anni. Qual è stato secondo te il mio gol più bello con la maglia della Roma? Il tuo? Eh, sì. Diciamo… Ne hai fatti tanti. Dai, facciamo questo qua contro il Barcelona che almeno era quello più importante, diciamo. I belli sono tutti uguali, eh? Sì, non ho fatto con il bello, diciamo. Con il Torino puoi dire, però… normale. Scegli tre persone famose, anche tra quelle che non sono più in vita, che inviteresti a cena a casa tua. Posso portare… Ronaldo Fenomeno. Sì, ma è oltre al calcio. Io intanto non vedo film, non guardo niente. Vive da vecchio. Certo. Porto David Beckham e Monica Bellucci. Ma sicuro che li porti a casa con tua moglie? Certo, intanto mia moglie sai che io sono bravo. I nostri compagni dicono che noi due siamo quelli che fanno più casino nello spogliatoio. Voi… Ma questa era mirata la domanda, eh? Eh certo, noi due. Vuoi difenderti davanti alle telecamere, a dire a tutti la verità? Allora, io non faccio mai casino. Io faccio più scherzi rispetto a magari altri. Allora, io non faccio mai casino. E lui è quello che fa i casino. No, io… E questo qua è quello che parla sempre, ridesca, urla, fa… No, no, io faccio sempre… Questo sì, possiamo scherciare, detto spogliatoio, quanto le cose vanno bene, quanto le cose non vanno bene, magari siamo un po' giti. Allora, qual è il tuo posto preferito di Roma? Casa mia. Non esce, sta sempre là. Non esco, sto a casa. C'ha quattro macchine, ma sta sempre a casa. Chi è il compagno di squadra più competitivo durante gli allenamenti? Che più vuole vincere, che ne so, questa. Io posso dire da parte mia… Kevin Strootman. Rompe sempre le scatole, mamma mia, quanto perde, non puoi mai discutere con lui. Mamma mia, che roba. Chi era il tuo idolo calcistico quando eri bambino? Lo zio, guarda. È bravo. Chi deve stare? Lui stava vicino bene. Il miglior centrale difensore della storia della Grecia. E io guardavo lui. ora sei tu quello della storia. No. Cosa pensi della mia resistenza agli infortuni? Lui sta tutti i giorni sul lettino. Mamma mia, hai pescato la domanda perfetta. Tutti i giorni sul lettino, 50 massaggi al giorno, ha male pure alle orecchie quando parla. C'è sempre qualcosa. Cioè lui in campo si rotola 100 volte per terra, sempre col piede così per terra. Cosa ricordi la prima volta che ci siamo incontrati? Mi ricordo che la prima volta che ci siamo… era prima della partita di Fiorentina dove pure hai segnato. Ho fatto un allenamento e poi Garcia mi ha messo in campo. Avevi una grezza gialla, fine cuia. E poi hai segnato. Va bene ragazzi, ecco le nostre risposte alle domande. Spero che vi siate divertiti e a presto. Ciao grande. Ciao grande. Siamo troppo forti. E allora. E vuota, è vuota questa. È vuota questa. È vuota. Ma che è successo? Non ti è piaciuta? Grazie a tutti.